Sono accusati di avere organizzato una frode fiscale grazie a false fatturazioni per favorire tre imprese edili. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza agli arresti domiciliari emessa dal GIP di Palermo su richiesta della Procura nei confronti di Salvatore Città, 68 anni di bagheria, amministratore della società Milotta Group, La Vorfer SRL e Lecofer SRL e Gianfranco Milotta, 46 anni di Alcamo, amministratore di diritto e di fatto della Milotta Group, della La Vorfer e della Lecofer. Per Giacinto Sciottino, di 47 anni, residente a bagheria, il GIP ha disposto l'obbligo di dimora. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto il sequestro preventivo anche nella forma per equivalente di somme e beni per oltre 14 milioni di euro. Le indagini avrebbero permesso di scoprire l'esistenza di una organizzazione criminale che dal 2016 al 2020 si sarebbe avvalsa ad un consulente fiscale palermitano per favorire tre società specializzate nel commercio di materiali per l'edilizia riconducibili a un imprenditore di Alcamo. Il collaudato sistema avrebbe generato false fatturazioni per oltre 37 milioni di euro. Sarebbero state utilizzate 22 società cartiere in Sicilia ma anche in Lombardia, Veneto e Puglia. Le aziende che utilizzavano le false fatturazioni e una volta incamerati gli indebiti vantaggi fiscali venivano prima svuotate dal compendio societario trasferito ad altre imprese neocostituite successivamente messe in liquidazione e fittiziamente trasferite all'estero, in Russia e Bielorussia per rendere particolarmente difficoltosi gli accertamenti del fisco. La documentazione contabile veniva sempre distrutta.